Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Posto Stark, e oggi siamo in una nuova anticipazione dell'episodio 130 di Dragon Ball Super. Nell'ultimo episodio, Goku raggiunge l'Ultre Istinto per l'ultima porta e si avvia alla battaglia finale contro Jiren. La prima parte dell'episodio è più che altro un dialogo fra le divinità, e tutti si accorgono che ancora una volta Goku non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, in quanto riesce solo a difendersi, ma nel momento di attaccare lui analizza l'avversario e pensa, quindi non agisce da solo, e quindi Jiren si ritrova in vantaggio rispetto a Goku. Ma pian piano all'avanzare dell'episodio vediamo che Goku comincia pian piano a raggiungere il suo stadio finale, diventa sempre più forse, i suoi attacchi diventano sempre più potenti. Alla fine, Goku sarà circondato da un'auria gigantesca e Jiren scatenerà tutta la sua forza, ma Goku riuscirà a bloccare l'attacco potentissimo di Jiren, distruggendolo con il suo nuovo potere. Jiren prova ad attaccarlo, ma ormai Goku sembra essere diventato troppo potente. Alla fine dell'episodio possiamo vedere Goku che esce dal suo guscio e possiamo vedere nella sua nuova magnifica trasformazione dei capelli bianchi e questo è il nostro istinto complotto. Nel prossimo episodio invece possiamo vedere la battaglia finale tra Goku e Jiren e possiamo vedere Jiren trasformato, probabilmente utilizzerà tutta la sua forza. In qualche frame possiamo vedere Goku un po' in difficoltà, che possa uscire nel prossimo episodio oppure continuare a combattere. Lo scopriremo. Bene ragazzi, questo è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!